Il contesto storico-teoretico in cui si svolge la riflessione di John Caird, predicatore di grande successo, prima ancora che filosofo, teologo e poi rettore dell'Università di Glasgow ininterrottamente dal 1873 al 1898, è quello dell'idealismo anglosassone, incentrato su una riflessione puntuale concernente la filosofia della religione, intesa come necessaria prospettiva di indagine nel contesto più ampio di una religiosità che deve attuarsi pienamente anche nella pratica e sorretto da una tradizione, quella della filosofia scozzese, la quale, dopo Hume e gli sviluppi riduzionistici tendenti alla riaffermazione di un pericoloso materialismo, ha riscoperto con Thomas Reed e molti altri pensatori uno spiritualismo la cui portata meriterebbe di essere conosciuta a fondo. La teologia filosofica scozzese, sviluppatasi nella modernità e in modo particolare quella del XIX secolo, nella quale John Kerr occupa un ruolo di rilievo, sebbene nel fondamentale volume di Alexander Brody e nella Encyclopedia of Philosophy sia semplicemente citato, ha un fortissimo interesse per le questioni ultimative legate al rapporto fra religione e speculazione filosofica. Pensatori come Robert Flint, Edward Kerr, che è fratello tra l'altro, ed Alexander Camper Fraser, a cui si può aggiungere per originalità anche Andrew Satpringle Patterson, dedicarono gran parte delle loro riflessioni proprio al problema religioso, suscitato, diciamo così, da una puntuale riflessione concernente il teismo, la relazione tra filosofia e religione, la questione concernente l'idea stessa di Dio, elaborata nella finitezza della razionalità umana, e molte altre tematiche ancora. Si potrebbe dire che l'intero ambito concernente il problema religioso risulta così declinato filosoficamente, a seconda delle personali posizioni di questi filosofi, nel senso di una revisione critica ed originale della speculazione hegeliana, intesa dalla maggior parte di essi come un efficace antidoto nei confronti dell'ateismo, del materialismo e di un positivismo dilaganti nella cultura del tempo, ancora in parte adebitrice delle critiche kantiane alle prove tradizionali dell'esistenza di Dio, non meno che delle riflessioni di Hume sulla religione. Le stesse Gifford Lectures, ancora oggi validissimo esempio di un interesse sempre vivo per le questioni connesse alla speculazione razionale sulle problematiche teologiche, svolgono in questo settore di indagini un compito utilissimo. Nell'archivio consultabile via internet, infatti, è possibile trovare materiale prezioso che mi sembra concorra a proporre un percorso di studi sul pensiero scozzese dell'Ottocento, capace, a mio giudizio, di rendere ragione di una sensibilità ben precisa, per nulla arginabile, al ruolo di semplice tendenza apologetica nei confronti della religione, come semplicisticamente si potrebbe pensare. Personalmente ritengo estremamente stimolante la posizione interpretativa di Muirhead, secondo la quale, nella filosofia anglosassone, al fine di averne una corretta interpretazione, debba essere riscoperta la tradizione platonica, per mezzo della quale è stato possibile, storicamente e teoreticamente, ravvivare l'impronta idealistica di contro la tradizione tipicamente empiristica legata Hobbes, Locke e Hume, e già rivisitata in senso platonico dall'ultimo Berkeley. Per questa ragione, l'impronta idealistica presente in John Caird, non di meno che negli altri idealisti scozzesi dell'Ottocento, non dimentichi neppure dell'aspetto apologetico e platonico e della loro filosofia, si esplicita comunemente nel tentativo di mostrare come il finito, per la sua stessa ed intrinseca irrazionalità, diviene reale, cioè razionale, nella misura in cui rivela la vera realtà, e vale a dire l'infinito. E' proprio nell'affermazione della risoluzione finale del finito nell'infinito, che si esplicita chiaramente l'impronta idealistica tipica non solo dell'idealismo scozzese, ma anche di quello anglo-americano, nel quale, storiograficamente, linguisticamente, quello scozzese è collocato. La posizione di John Caird, in modo particolare, così come risulta ricavabile dai suoi scritti, ed in particolar modo da quello forse più rappresentativo di questa concezione, vale a dire An Introduction to the Philosophy of Religion, considera il rapporto tra finito e infinito dalla prospettiva del contrasto sussistente tra la coscienza del limite, proprio del soggetto finito, dunque limitato, e la coscienza di ciò che trascende il limite, vale a dire l'assoluto. Ma la conoscenza dell'assoluto non è possibile se non a cominciare dalla coscienza stessa, la quale si palesa come processo di mediazione a partire dall'assoluto stesso. Tale processo, come si evidenzierà in parte anche nell'argomento che verrà preso in esame, è interno alla natura di Dio. Per tal ragione, secondo Caird, risulta possibile concepire l'assoluta realtà solo come internamente e in relazione con il finito. Da qui ne fa derivare la necessità di concepire la religione come vita della coscienza razionale assoluta. Ma una religione intesa in questo modo non è altro che una filosofia, nella quale il tentativo di aprirsi alla realtà assoluta renderebbe ragione del fatto che tale realtà corrisponda ad un concetto in cui le contraddizioni esperite nel finito si armonizzino in una unità superiore. Caird, ponendosi su di una linea che risente fortemente del suo strato platonico, propone una differenza fra un pensiero incapace di afferrare l'unità degli opposti e un pensiero speculativo nel quale l'opposizione e l'antitesi fra spirito e natura vengono dialetticamente superate. Ma la linea platonica iniziale non viene seguita fino in fondo, tant'è che l'impostazione teoretica egheliana ha qui il sopravvento. Non risulta difficile, infatti, comprendere come l'immanenza dell'infinito nel finito tende ad escludere una chiara riaffermazione della trascendenza di Dio, perché in ultima istanza Dio risulterebbe incompleto, cioè imperfetto, se non avesse in sé stesso la relazione con il finito. E dunque la luce di questa impostazione che trova conferma l'argomentazione ontologica riproposta dal pensatore scozzese in una chiave che, come si avrà modo di osservare, risulta pure apologetica nei confronti della religione e della sua stessa necessità. An Introduction to the Philosophy of Religion è l'opera dalla quale è possibile trarre la riflessione di Jean Caird sull'argomento ontologico, riproposto alla luce di una riflessione che non nasconde una certa qual originalità. Il testo in oggetto che ebbe una vasta diffusione nel mondo anglosassone, sei riedizioni dal 1889 al 1920, e che raccoglie il materiale delle Cruel Ratchels, tenute a Edimburgo nel bienio 1878-1879, risente in modo costante ed esplicito delle riflessioni di alcuni pensatori di stampo hegeliano, ma soprattutto della filosofia della religione di Hegel. E lo stesso Caird, nella prefazione del volume, ne esplicita il debito. Tant'è che arriverà a dire proprio che l'autore è indebitato nei confronti di questa filosofia della religione hegeliana. L'argomento ontologico è tratto da Caird nel paragrafo terzo del capitolo quinto dell'opera, intitolato The Proofs of the Existence of God, sulle prove dell'esistenza di Dio, subito dopo la disamina degli argomenti cosmologici e teleologici, i quali, pur ritenuti significativi, risultano meno funzionali all'intento generale cui mira la riflessione di Caird, ossia mostrare l'innegabilità della religione e la sua origine necessaria, una finalità apologetica che non fa dimenticare la dimensione pastorale della speculazione dell'autore. Il discorso sviluppato dal pensatore scozzese è unitario e molto chiaro nel suo porsi, se si eccettano alcuni particolari di carattere terminologico, come si avrà occasione di constatare, che possono destare qualche leggera perplessità interpretativa. Tuttavia, lo stile argomentativo risulta abbastanza lineare e il discorso appare agevole al fine di individuare tutti quei punti focali che ne permettono una puntuale disamina di ordine teoretico. Occorre tenere presente sin d'ora, come ho già rilevato precedentemente, il contesto teoretico in cui ci troviamo è quello del neo-idealismo anglosassone, sostanzialmente debitore degli iscritti hegeliani, ma in Caird vi è pure un'esigenza apologetica nei confronti della religione, un aspetto tutt'altro che secondario e che a mio giudizio deve essere tenuto in serissima considerazione, poiché l'argomento stesso diviene il mezzo teoreticamente più indicato per dimostrare la necessità della religione di contro le numerose sollecitazioni ateistiche e materialistiche che vorrebbero minarne la validità ed escludere la religione stessa dalla categoria della necessità. L'argomento ontologico riproposto da Caird, prima di essere esposto a partire dal paragrafo quinto, è introdotto già a partire dal paragrafo primo, da un'asserzione di massima secondo la quale scopo dell'argomento in qualsiasi forma venga presentato sarebbe quello che dall'idea di Dio si passasse ad inferirne l'esistenza. In tal senso il pensiero di Dio che si trova nello spirito di chi pensa ne dimostrerebbe assolutamente l'esistenza. A conclusione del paragrafo primo vi è poi il più che giustificato riconoscimento delle diverse forme in cui l'argomento ontologico è stato posto di volta in volta da diversi autori a partire dall'originale di Sant'Anselmo sino alla versione rielaborata da Cartesio. Con il paragrafo secondo Caird pone in rilievo come il modo in cui l'argomento è posto sembri un vero e proprio paralogismo vale a dire un ragionamento formalmente falso con parvenza di verità. L'affermazione secondo la quale un concetto esistente nel mio spirito debba necessariamente presupporre l'esistenza come uno dei suoi elementi nel senso che dovrebbe realmente esistere oggettivamente cioè nella realtà un essere che gli corrisponda sembra fallace. Al massimo afferma il filosofo scozzese questa argomentazione potrebbe rientrare nel contesto di un gioco di parole a foolish play upon words. Caird nota che la suddetta affermazione non sembra acquistare valore e di validità nemmeno quando si prende in considerazione il concetto stesso di esistenza quasi si volesse dire che basti avere un concetto un'idea di esistenza per poter inferire l'esistenza attuale e oggettiva di una data cosa pensata. Caird riporta il noto esempio proposto da Kant dai 100 talleri presentato qui nella suggestiva edizione di 300 dollari e anticipato da due altri esempi ugualmente facili e di presa molto semplice anche sul lettore. In tale contesto però occorre rilevare che il filosofo scozzese non sembra tener conto dell'osservazione hegeliana mossa proprio contro la critica di Kant giudicata addirittura triviale. Secondo Hegel infatti Dio per sua stessa natura non può essere paragonato ad alcun altro concetto particolare per cui l'esempio kantiano dei 100 talleri risulta teoreticamente inconsistente. Questo avviene perché Dio è l'unico oggetto che di per sé implica esistenza è in Dio infatti che secondo Hegel si attua quell'unità di idea ed essere di razionale di reale che il pensiero kantiano vorrebbe erroneamente disgiungere e distinguere ed è per questa ragione che nell'ottica kantiana tale argomentazione non può trovare accoglimento. Caird è abbastanza fluttuante nell'uso dei termini alcuni soprattutto talvolta presentati come assolutamente sinonimi tal'altra come eventi significato differente si pensa ad esempio all'uso del termine essere being talvolta inteso come esistente altre volte pur scritto con la lettera maiuscola ma non sempre per indicare la differenza ontologica fra l'essere che Dio è o l'essere di cui partecipano le creature le quali non sono Dio anche l'uso del termine concetto concept conception palesemente scambiabile con il termine idea idea laddove propriamente parlando l'idea è l'elemento determinante del sapere intuitivo mentre il concetto costituisce l'elemento basilare del conoscere razionale lascia aperta ovviamente l'annosa questione circa il valore e il significato specifico dei termini utilizzati nel contesto di un discorso teoretico che pretenda di essere probante nel paragrafo terzo Kerr rimarca nuovamente l'imperfezione della forma in cui l'argomento è posto ma non può fare a meno di sottolineare un dato significativo che per la sua visione religiosa diviene addirittura basilare egli infatti osserva che il principio sul quale l'argomento ontologico si basa è il medesimo su cui poggia interamente la coscienza religiosa dell'uomo occorre rilevare che il punto di vista hegeliano secondo il quale la religione non sarebbe altro che una mediazione fra dio e l'io conduce Kerr a riaffermare il principio dell'unità del finito nell'infinito come fondamento della religione la quale non è altro che una forma di mediazione votata ad un infinito progresso l'uomo infatti può attingere a quell'unità pienamente realizzata ed attuale nella vita divina solo mediante questo infinito progresso vale a dire una vita vissuta religiosamente in quanto la religione secondo Kerr non è altro che il sollevarsi del finito verso l'infinito il sacrificio di ogni desiderio inclinazione e volizione che appartiene a me come privato individuo l'assoluta identificazione del mio volere col volere di dio nel paragrafo quarto Kerr si appoggia nuovamente a Kant rilevando che nel mondo in cui viviamo vi sono moltissime cose delle quali non siamo in grado di inferire l'esistenza oggettiva di esse a partire dalla semplice idea che ne possediamo eppure vi è un'idea cioè quella di coscienza senza la quale il pensiero stesso non potrebbe pensare prima di affermarne la natura e definirne la portata Kerr sulla scorta della trattazione svolta nel capitolo quarto della sua opera dedicato alla confutazione delle teorie materialistiche afferma che il pensiero non è un prodotto della materia sicché nel caso in cui si desiderasse stabilire l'esistenza stessa del mondo esterno comprensiva di tutti gli elementi di cui risulta costituito bisognerebbe prima di tutto averne coscienza il tentare di concepire un'esistenza di qualsiasi esistenza si tratti che sia precedente al pensiero o addirittura esterna al pensiero stesso sarebbe erroneo perché tutto ciò che risulta concepibile per mezzo del pensiero esiste solo nel pensiero ma è a partire dal paragrafo quinto che prende avvio la riproposizione dell'argomento ontologico declinato nella forma idealistica da John Keard il presupposto è fornito dall'indubitabilità circa l'unità di essere e pensiero ma la realtà oggettiva non dipende dal pensiero di un qualsivoglia io individuale per quanto si possa affermare che non vi è oggetto che si possa concepire come esistente se non in relazione ad un soggetto che lo pensi ora precisa Keard ciò che fa sì che il mondo esista per l'uomo che lo pensa non è il suo pensiero perché nel pensiero l'uomo possiede la capacità di trascendere la sua individualità il suo io non meno che il mondo e tutti gli oggetti di cui è costituito e di cui l'uomo può dire che non sono il suo io perché gli si oppongono non io in virtù di questa capacità che è pur sempre una potenza del pensiero egli può entrare in un'idea entering into an idea capace di unire ed abbracciare nel contempo tanto il mondo quanto la sua stessa individualità vale a dire l'io dell'uomo pensante qui si attua l'unità del soggetto l'io e dell'oggetto il mondo che altrimenti gli si paleserebbero in piena opposizione ma chiediamoci come risulta possibile questo? e qui vediamo l'argomento proposto da Keard il presupposto reale di ogni conoscenza o il pensiero che è il prius di tutte le cose non è la coscienza che l'individuo possiede di sé in quanto individuo ma un pensiero ovvero un'autocoscienza che oltrepassa ogni limite di individualità che è l'unità di tutte le individualità e dei loro oggetti di tutti coloro che pensano e di tutti gli oggetti del loro pensiero o per dirlo altrimenti quando ci sentiamo costretti a pensare a tutte le cose esistenti come se fossero relative al pensiero e al pensiero come se fosse antecedente ad ogni cosa la prima fra tutte l'esistenza alla quale esso risulta antecedente è la nostra stessa individualità possiamo far sì che il nostro io individuale come tutti gli altri oggetti divenga oggetto di pensiero non è dato solamente pensare possiamo pensare anche a colui che pensa possiamo anche dire che strettamente parlando non siamo noi che pensiamo ma la ragione universale che è in noi in altre parole quando pensiamo assurgiamo ad un punto di vista universale dal quale la nostra individualità non ha un'importanza maggiore rispetto a quella di qualsivoglia oggetto in tal modo in quanto esseri pensanti veniamo già a trovarci in una regione in cui i nostri sentimenti e le nostre opinioni individuali in quanto tali non hanno valore assoluto ma ciò che solamente possiede valore assoluto è un pensiero che non ci appartiene individualmente ma è la vita universale di tutte le intelligenze ossia la vita nell'universale l'intelligenza assoluta secondo Kerr ciò avviene perché quando l'uomo pensa alla propria coscienza individuale unitamente al mondo che vede essere altro da sé presuppone un pensiero che presenta caratteristiche diverse da quelle che determinano il suo limite di pensiero finito proprio perché nell'unità del finito con l'infinito l'infinito prevale questo pensiero presupposto è una coscienza che si presenta come più elevata più ampia più comprensiva in grado di unificare ed abbracciare il soggetto e l'oggetto ma c'è di più perché infatti il presupposto reale di ogni coscienza non è la coscienza che l'individuo possiede di se stesso in quanto individuo ma un'autocoscienza capace di oltrepassare i limiti dell'individualità del pensiero individuale secondo il filosofo scozzese infatti nel momento in cui l'uomo pensa egli si pone da un punto di vista universale ciò significa che da questa prospettiva coscienziale l'uomo può guardare a sé alla propria individualità nello stesso modo in cui guarderebbe quella di qualsiasi altro individuo in tale contesto la coscienza dell'uomo può guardare al suo proprio io col medesimo distacco o col medesimo interesse con cui guarda altri io che non sono lui l'uomo proprio per la sua caratteristica di essere pensante nel momento in cui pensa da un punto di vista universale si trova immerso in una condizione nella quale i sentimenti o le opinioni individuali non possono essere accolti come aventi un valore assoluto perché si tratta di elementi soggettivi e variabili a seconda dei diversi soggetti che li provano individual feelings o li esprimono opinions options secondo Kerr il carattere dell'assolutezza non appartiene ad un pensiero individuale ma è costitutivo della vita universale di tutte le intelligenze esistenti le quali proprio in virtù dell'universalità costituiscono quella che egli chiama intelligenza assoluta absolute intelligence a questo punto ci si potrebbe chiedere qual è il vero significato di questa prova ontologica Kerr risponde nel paragrafo sesto in modo estremamente chiaro essendo noi uomini degli esseri spirituali ne consegue che tutta la nostra vita coscienziale dipende da una autocoscienza universale vale a dire una vita spirituale assoluta absolute spiritual life quindi ciò che abbiamo così raggiunto quale vero significato della prova ontologica è questo che in quanto siamo esseri spirituali tutta la nostra vita di coscienza si basa su di un'autocoscienza universale una vita spirituale assoluta che non è semplicemente una mera nozione soggettiva o un concetto ma è ciò che porta con sé la prova della sua esistenza necessaria ossia realtà è opportuno rilevare che il presupposto di questa risposta sta nell'affermazione secondo la quale di contro le teorie materialistiche gli uomini sono essenzialmente esseri spirituali spiritual beings capaci di un'autocoscienza universale col paragrafo settimo termina la disamina dell'argomento dalla quale emergono alcune puntualizzazioni interessanti innanzitutto nell'idea di Dio idea of God e nelle relazioni his relation to the world che intercorrono tra Dio e il mondo è possibile intravedere qualcosa di più rispetto a Dio come infinito che si pone in relazione col finito perché l'idea di Dio oltre a costituire la base più profonda della religione che l'uomo possa avere porta in se stessa l'assoluta necessità di quell'idea in quanto l'uomo è un essere spirituale che ha coscienza di sé e sa riconoscere oltre alla relazione fra Dio e mondo anche quella prettamente coscienziale che si instaura fra lo spirito umano e il divino human spirit to the divine a questo punto ci si potrebbe chiedere come dovrà essere concepito Dio alla stregua delle riflessioni condotte dal filosofo scozzese Card non ritiene che Dio debba essere concepito come l'infinito che nega il finito altrimenti non vi sarebbe possibilità alcuna per la religione dell'uomo e gli sostiene piuttosto che Dio debba essere inteso come uno spirito infinito infinite mind vale a dire un'autocoscienza self-consciousness infinita e universale nella quale risiede la ragione della coscienza di tutti gli spiriti finiti in tal senso si comprende secondo Cair il motivo per cui la natura stessa di una siffatta autocoscienza consista nell'autorivelazione di sé alle coscienze finite ciò determina pure un passaggio progressivo dall'ordine teoretico a quello pratico perché il legame che si instaura fra Dio e uomo tra infinito che si rivela a un finito disposto a ricevere tale rivelazione coscienziale crea quella coscienza religiosa che rende la religione stessa assolutamente necessaria di modo che si acqui pienamente tanto la coscienza dell'uomo quanto quella universale l'esplicito debito nei confronti di Hegel è pienamente confermato da Caird stesso come abbiamo visto ma credo non sia fuori luogo concludere questa disamina con una riflessione di fondo Caird infatti non ritiene che le prove dell'esistenza di Dio messe in crisi definitivamente dalle critiche kantiane secondo alcuni non siano più valide ma sostiene che nella prova ontologica vi sia qualcosa di innegabilmente veritiero al di là degli aspetti logici e formali su cui non è difficile formulare specifiche critiche altrimenti come si è visto non si spiegherebbe nemmeno la necessità della religione vale a dire la necessità di quella mediazione fondamentale fra Lio e Dio Caird ubidendo la linea hegeliana delle lezioni sulla filosofia della religione ritiene che l'equivoco contenuto nelle prove dell'esistenza di Dio in genere sia riscontrabile nel fatto che Lio cerchi di parlare di Dio intendendolo erroneamente alla stregua di un ente finito come risulta Lio stesso ma cosa afferma Hegel nel proposito? Si parla di Dio e della sua esistenza ma l'esistenza è un essere determinato finito ma l'essere di Dio non è in alcun modo un essere limitato l'elevazione verso Dio se noi la concepiamo nella forma della prova è un rapporto nel quale il finito è il fondamento dal quale viene dimostrato l'essere di Dio in questa connessione l'essere di Dio appare come conseguenza come dipendente dall'essere del finito e dunque a partire dalla risoluzione di questo equivoco che risulta recuperabile l'argomento ontologico espresso in senso coscienziale da Kerr e valevole dal suo punto di vista come antidoto all'ateismo e così apologeticamente adatto a rimarcare la necessità della religione stessa il progresso noetico e vitale infine costituito da un'elevazione a Dio diviene in quest'ottica hegeliana come il tentativo da parte del finito di superarsi per incontrare l'infinito sicché per dirla con Hegel questo tentativo di superamento è ad un tempo un progresso è una negazione è un progresso perché l'io finito tende verso Dio l'infinito superando se stesso ma è nel contempo una negazione perché per poter procedere in tale direzione concettuale e vitale insieme l'uomo deve negare il finito ed è quanto dire per citare Hegel io so che Dio è questo semplice rapporto è prodotto da questa negazione grazie grazie